Buongiorno, eccoci qui, bentornati, bentrovati o benvenuti sul canale. Siamo frizzanti perché qui, come disse la buonanima di mio papà, si sono aperte le cataratte del Ceno. Quando faceva gli articoli per le sue gite in montagna, c'era sempre dentro, perché pioveva spesso, quando andavano a fare magari le gite del Cai di due o tre giorni, quindi il suo articolo era e le cataratte del Ceno si aprirono e puntini puntini. Sono anche vestita con la maglietta che ho scritto Happy, ho gli orecchini fosforescenti, mi sono dovuta anche raccogliere i capelli perché ieri ho preso una lavata allucinante, avevo appena fatto la doccia, sono uscita, mi sono masarata fino alle ossa, ho asciugato i capelli un po' così e quindi ho detto oggi non avevo voglia di rilavarli un'altra volta, prendetemi per quello che sono. Quindi un po' di colore, happy sulla maglietta, speriamo che oggi sia veramente la coda di questo inverno, perché io sono davvero stufa, mi deprimo, cioè mi deprimo, veramente. Allora, portiamo un po' di colore in questa giornata bija-bija con degli acquisti che ho fatto un po' di tempo fa, quando ancora pensavo che la primavera fosse alle porte e che non ho ancora usato perché sono rimasti lì, li volevo raccontare, poi una cosa tira l'altra, un profumo tira l'altro e ve li mostro adesso perché adesso li voglio mettere in uso perché ci sono delle cose molto molto carine secondo me. Allora, la prima parte è di articoli che ho acquistato su Look Fantastic perché ho visto un video della bravissima Giulia Cova, sapete che io la amo e la adoro perché la trovo competentissima, bravissima e soprattutto molto onesta nelle sue recensioni dopo averle provate. la considero la mia guru in fatto di make-up e skin care. Mi piace davvero, davvero tanto. E quindi, complice il suo sconto su Look Fantastic e alcuni prodotti che erano scontati, ma vi parlo di un mese fa, ho deciso di rimpolpare un po' alcuni prodotti, qualcosina di make-up qui non tanto, ma della skin care. Partiamo subito! Vi ho detto che sono in fissa e lo avete visto con i mascara colorati. L'ho preso marrone di Avon, mi sta piacendo molto, ma ne vorrei uno che fosse ancora più intenso. Ho preso i due mascara di Pupa, quello verde e quello viola. Mi piacciono tantissimo per la tonalità che rilasciano sulle ciglia. Molto bella, molto carica. Essendo dei prodotti, secondo me, appena aperti, rilasciano tantissimo prodotto. E quindi, devo un attimo capire come fare. Però, adesso che sono aperti da un mese e li sto utilizzando praticamente quasi tutti i giorni, a parte il periodo di pausa con il mio problema all'occhio, devo dire che si stanno asciugando un attimino e mi stanno piacendo tantissimo. Mi mancava il blu. E questo l'ho preso su Look Fantastic. Allora, è un mascara della EIECO London che io non conosco. Ed è un mascara colorante, ma anche nutriente e rinforzante per le ciglia. Allora, lo scovolino è così e mi piace particolarmente. L'azzurro, non l'ho ancora provato, eh ragazzi, l'ho aperto con voi. L'azzurro, il blu, cioè non azzurro, perché questo è proprio un blu, è così e mi piace. E qui dice che c'è, ci dovrebbe essere una trasformazione radicale con questo mascara. È una formula nutriente ricca, c'è l'olio di ricino, c'è l'arginina, rafforza le ciglia e quindi al contempo le colora, ma dovrebbe anche essere una specie di ricostituente per le nostre ciglia. Ve lo dirò perché da domani lo metterò in uso. qualsiasi temporale possa cadere, domani metterò questo mascara. Secondo prodotto che ho preso, mi piaceva un botto. Allora, io non ricordo se tutti questi siano stati consigliati da Giulia Cova. Quattro sicuramente sì. Gli altri sono andata di mio gusto. Questo è uno stick della Rimmel, giusto, yes, che fa sia da rossetto che da blush. Il colore è molto estivo, molto guance alla Heidi di ragazza all'aria aperta. si sfuma benissimo e sono molto, molto curiosa di provarlo. Poi vi lascio i prezzi, il link di tutto quello che vi sto menzionando. Terzo prodotto e questo sono sicurissima che l'aveva l'aveva promosso Giulia. È un olio lipstick per le labbra che si trasforma con il pH delle nostre labbra. Vediamo se lo fa anche sulle mani perché io mi sono appena messa un russetin, rousin, rousin. Vediamo, eh. Mi piacciono tantissimo questi non dosatori. Questi pennelli per le labbra. Vediamo se fa lo stesso effetto perché sulle labbra l'avevo provato, eh. Eh sì, si colora. Un po' come il rossetto marocchino che mi aveva regalato la mia amica Greta. Allora, sì, lo vedete? Eccolo qua. Eccolo qua. Yes! E non vedo l'ora perché sto usando quello di Essence che avevo comprato nell'ultimo acquisto che avevo fatto da Acqua e Sapone. Mi sto trovando benissimo. Eh, lo metto soprattutto alla sera ma quello è in colore. Mentre questo che si colora lo vorrei utilizzare per il giorno. Alla mattina io mi metto il rossetto. Poi, mh, magari durante la mattinata o bevo il caffè o faccio un piccolo spuntino per arrivare a mezzogiorno e il rossetto non sempre rimane se non è di quelli super, se non è di quelli super resistenti. E mettendoci questo sopra colorato ve lo metto in borsetta potrebbe essere un'ottima alternativa. Tenendo conto che vediamo non è appiccicoso ed è arricchito con peptidi per aiutare a levigare e idratare visibilmente le labbra favorendo una tenuta dall'aspetto impeccabile. Vediamo. Poi vedremo. E poi questo io non ricordo se lei l'aveva consigliato però guardate la scatola Miracle Night Serum e dopo averlo ripetuto per dieci volte e ho tagliato dieci volte spero di averlo detto nella maniera più simile possibile a come si dica in inglese. Advanced Complex non vi ricorda qualcosa? A me ricorda tantissimo il famosissimo siero di Estée Lauder ma mi sembra che gli assomigli anche. Questo è un siero da mettere alla sera potenziato dal complesso Pro Renew and Repair la formula agisce per rassodare l'aspetto della pelle donandole un aspetto rinfrescato l'acido ialuronico favorisce un aspetto rimpolpato in sole 4 settimane ci sono stati dei vari test e testato su 108 consumatori per 4 settimane ha dato dei risultati davvero davvero sorprendenti anche la Eli lo proverà e vediamo se non mi riconoscerete più nei prossimi video oggi sono un po' scherzosa ma davvero se non mi tiro su di morale da sola qui anneghiamo poi quinto prodotto ma guardate che meravigliosità tutto rosa tutto pink il mio colore preferito o quasi e questo indovinate che cos'è la Eli che cos'è che ama i primer i primer e questo è un primer allora dice che anche questo fa meraviglia ci sono queste piccole sfere capsuline che chiaramente poi schiacciando si rompono e dice che queste piccole bolle rosa perlescenti conferiscono una lucentezza luminosa alla carnagione dotato di una texture morbida e setosa il primer ad altissime prestazioni forma uno strato illuminante che fissa il trucco in una tenuta che dura tutto il giorno e anche di questo lo proveremo e vi saprò dire ultimo prodottino che ho comprato sempre su look fantastic anche questo mi pare l'avesse sempre consigliato Giulia ma a questo punto presumo tutto è un Lip Glaze della Max Factor questo bellissimo lucidalabbra Lip Glaze è all'acido ialuronico e squalano la formula dice che aiuta a levigare e a rimpolpare le labbra è leggero e non troppo appiccicoso e ha un profumo delizioso di latte e vaniglia è vero è proprio vero ebbene questi sono i prodotti che io comprai circa due mesi fa su look fantastic perché consigliati da Giulia Cova passiamo ora invece a qualche prodottino che avevo sempre acquistato circa due mesi fa dalla signora che avevo trovato che faceva la rappresentante della Avon adesso sul tubo ho visto che la mia amica Simona di Beauty Passion del canale Beauty Passion anche lei è una referente quindi quando avrò bisogno mi affiderò a lei perché insomma la conosco mi piace e la voglio sostenere insomma vi lascio anche del suo canale ma presumo che la Simo la conosciate tutti vado a prendere i prodottini di Avon e ritorno non scappate eccoci qui allora vediamo un po' che cosa ho acquistato non è tantissima roba sono stata brava perché ho ancora tante cose sto finendo un bel po' di prodotti anche di makeup ci sto dando fondo allora la prima cosa che ho preso sempre per questa primavera che ci ha illuso è questo blush in perle mi piaceva tantissimo la colorazione e non ho mai avuto un blush in perle e così ho detto cià che proviamo guardate che meraviglia di colori e questo è perfetto 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 per l'estate e quindi proveremo non li ho mai non li ho mai provati e poi siccome anche questi erano scontati ma vi parlo penso dell'album di marzo sicuramente ho preso anche il bronzing il bronze che non so se è la vecchia terra di noi ragazze degli anni 70 che nel 90 e nell'80 mettevamo la terra chiaramente il colore è tutto sui toni del marrone perlacio sono belli brillanti ma io questo lo utilizzo comunque soltanto sulle guance e un po' qui non come una volta noi che con il pennellone ci davamo la terra ditemi che anche voi facevate così ed eravamo abbronzatissime noi ragazze del muretto abbronzatissime ci davamo la terra su tutta la faccia eravamo praticamente abbronzate anche a gennaio o almeno io lo facevo mi ricordo che lo facevo e mi piaceva tantissimo poi ho preso questo spray che è sia spray fissativo per il trucco ma è anche uno spray che si può utilizzare prima di fare la base trucco allora tenere il prodotto niente qui dice ok chiudere gli occhi spray base trucco e fissativo quindi voglio proprio provare se funziona sapete che io sono in fissa con i primer e con gli spray e niente questo è da 125 ml poi anche qui vi lascio tutto nell'info box poi cosa abbiamo preso abbiamo preso un primer ma secondo voi o li sto utilizzando però questo primer non lo apro perché ne ho già due aperti e quindi che è apposta per le pelli miste grasse con un controllo sulla diciamo la formazione del sebo della pelle grassa e dovrebbe appunto aiutare a tenerla sotto controllo vediamo qua cosa ci dice eh si praticamente dice quello che vi ho detto io e quindi vedremo perdonate oggi appunto un po' la così il modo smart in cui mi pongo ma sono proprio stanca di di questo tempo e avevo voglia di fare un video un po' così giocoso io sono così eh sono sono giocosa sono ironica un po' ragazzina poi ho preso invece due lip stilo che mi piacciono tantissimo ma che ve lo dico a fare in questo colore che è chi è che lo vede no non lo vedo assolutamente ragazzi ve lo ve lo lascio questi sono quelli che a me piacciono di più perché perché mi avvolgono le labbra sono morbidi poi io non mi interessa rimettervelo più volte al giorno però io sul rossetto cerco proprio il comfort la morbidezza in questo bellissimo rosa leggermente io non so se lo vedete ma qui è leggermente sporcato di color mattone ed è perlaceo non è matt perlescente ecco perlescente ok poi carino c'è lo scattino tac tac si chiude in borsetta ci sta benissimo e l'altro che è un po' più vediamo se mettiamolo qua sotto un po' più con il colore dell'arancione un rosso arancione vedete molto molto belli tra l'altro appunto confrontando un po' i prezzi anche con i prodotti che ci sono nelle catene che possiamo trovare nelle nostre città tigota acqua e sapone devo dire che Avon ha un rapporto qualità prezzo davvero molto molto bello notevole io con i loro prodotti mi sto trovando benissimo il fondotinta mi piace da impazzire il mascara anche che è quello che io ricerco nel mascara una ciglia naturale colorata ma non da bambolona non ho più l'età per fare la bambolona insomma e poi non mi è neanche forse mai piaciuto e comunque mi sto trovando benissimo e poi avevo anche dei campioncini che sono quelli che avevo chiesto appunto a questa signora per farmi provare il fondotinta sono questo fondotinta leggetelo voi che siete più bravi di me natural finish con spf 20 e ho la colorazione da provare 220g e 215p e poi mi ha omaggiato anche di questi due presumo sia foundation e fondotinta fondotinta con il siero spf 30 sempre con le stesse colorazioni vediamo vediamo un po' voglio provarli perché ero molto curiosa infatti li avevo chiesti e poi un profumino che ho già messo via un piccolo campioncino ma poi lo vedremo e questo piccolo rossetto che carissimo va bene dai spacchettamento divertente così tanto per stare un po' insieme per passare non penso tantissimi minuti o almeno credo perché poi quando faccio la sciocca non mi accorgo io vi saluto vi ringrazio vi auguro un buon fine settimana io sto aspettando che Paolo rientri da Barcellona dove è andato per lavoro a fare 4 giorni di convegni per la scuola perché l'ho mandato in un posto che poi vi dico a cercare dei profumi bene bene ci vediamo al prossimo appuntamento al prossimo video vi saluto vi abbraccio vi mando tanti baci e grazie per essere arrivati fino a qui ciao grazie a tutti